Oggi abbiamo un viaggio speciale per tutti voi amanti della cultura, del cibo e dell'architettura. Preparatevi a immergervi nella magica atmosfera di Bologna, la città dei portici e della tradizione culinaria italiana. Nel nostro tour esclusivo di Bologna scopriremo insieme i segreti nascosti di questa affascinante metropoli. Vi mostreremo la storia dietro ai monumenti più iconici, come le Due Torri e Piazza Maggiore, e vi porteremo attraverso i pittoreschi portici che caratterizzano questa città unica. Torre degli Asinelli La Torre degli Asinelli è una delle due famosi torri medievali di Bologna, situate nel centro della città. La torre, alta 97,2 metri, è la più alta torre medievale della città e una delle più alte del mondo, costruite interamente in mattoni. La costruzione della Torre degli Asinelli iniziò nel 1109, su commissione della famiglia degli Asinelli, che voleva costruire una torre che rappresentasse il loro potere e la loro ricchezza. La torre fu completata nel 1119 e fu utilizzata come torre di avvistamento e difesa. Nel corso dei secoli, la torre fu utilizzata anche come prigione e come posto di guardia antincendio. La Torre degli Asinelli è a pianta quadrata, con una base di 7,7 metri per lato. La torre è composta da nove piani, ciascuno con una sola stanza. L'accesso alla torre è possibile attraverso una scalinata di legno a chiocciola, composta da 498 gradini. Dalla cima della torre si può godere di una vista panoramica spettacolare sulla città di Bologna e sui suoi dintorni. La vista si estende fino alle colline circostanti e le Alpi in lontananza. Oggi, la Torre degli Asinelli è una delle attrazioni principali di Bologna e viene visitata da migliaia di turisti ogni anno. Tuttavia, è importante notare che la salita alla torre è piuttosto impegnativa e richiede una buona forma fisica. Inoltre, l'accesso alla torre è limitato a un massimo di 25 persone alla volta, per motivi di sicurezza. Piazza Maggiore Piazza Maggiore è la piazza principale di Bologna, situata nel centro storico della città. La piazza, di forma rettangolare, è circondata da imponenti edifici storici e rappresenta il cuore pulsante della vita sociale e culturale di Bologna. È conosciuta anche come Piazza Grante grazie a Lucio Dalla, che ne ha fatto un pezzo stupendo nel 1972. La piazza fu costruita tra il XIII e il XV secolo ed è stata il centro della vita politica, religiosa e culturale di Bologna per secoli. La piazza è stata anche il luogo di importanti eventi storici, come l'incoronazione di Carlo V come imperatore del Sacro Romano Impero nel 1530. I principali edifici storici che circondano Piazza Maggiore sono Palazzo Comunale, l'edificio che ospita il municipio di Bologna, costruito tra il XIII e il XV secolo. Il palazzo presenta una facciata gottica con un orologio del XIV secolo. Basilica di San Petronio, la più grande chiesa di Bologna, costruita nel XIV secolo in onore del patrono della città, San Petronio. La facciata della chiesa è incompiuta e presenta un mix di stili architettonici, tra cui il gotico e il rinascimentale. Palazzo dei Banchi, un edificio rinascimentale con una lunga facciata che si affaccia sulla piazza. L'edificio era inizialmente destinato a ospitare le attività commerciali della città. Palazzo del Podestà, un edificio medievale situato di fronte al palazzo comunale, costruito nel XIII secolo e ampliato nel XV secolo. Fontana del Nettuno, una grande fontana rinascimentale situata al centro della piazza, costruita nel XVI secolo. La fontana è decorata con statue che rappresentano divinità marine e creature mitologiche. Oggi, Piazza Maggiore è un luogo molto frequentato dai turisti e dai residenti di Bologna, che vi si recano per passeggiare, rilassarsi o partecipare a eventi culturali e manifestazioni pubbliche. Archiginnasio L'Archiginnasio di Bologna è un edificio storico situato nel centro della città, costruito nel XVI secolo come sede dell'Università di Bologna, una delle più antiche e prestigiose università del mondo. L'edificio è stato costruito su un'area che un tempo ospitava il Monastero di Santa Maria degli Angeli, che fu demolito per far posta alla nuova sede universitaria. L'Archiginnasio è stato progettato dall'architetto Antonio Morandi e costruito tra il 1562 e il 1563. L'edificio presenta una facciata in stile rinascimentale, ornata con decorazioni in terracotta che rappresentano i simboli delle arti e delle scienze. L'interno dell'Archiginnasio è ancora oggi uno dei luoghi più suggestivi di Bologna e ospita la Biblioteca Universitaria e il Museo dei Palazzo Poggi. La Biblioteca Universitaria è una delle biblioteche più importanti d'Italia e conserva oltre 2 milioni di volumi, manoscritti e incunaboli. La biblioteca è famosa per la sua sala di lettura, situata al primo piano dell'edificio, decorata con affresti del XVI secolo che rappresentano le scienze e le arti liberali. Il Museo di Palazzo Poggi ospita al suo interno una vasta collezione di strumenti scientifici, mappe, modelli anatomici e altre opere d'arte e oggetti di valore storico. Il Museo è suddiviso in diverse sezioni, tra cui la sezione di Anatomia, la sezione di Storia Naturale e la sezione di Scienze Fisiche e Matematiche. L'Archiginnasio di Bologna è un luogo di grande importanza storica, culturale e scientifica che custodisce tesori di inestimabile valore. La visita all'edificio è un'esperienza unica e affascinante per chiunque si è interessato alla storia dell'arte, della scienza e della cultura italiana. Basilica di San Petronio La Basilica di San Petronio è la più grande chiesa di Bologna, situata nel centro storico della città. La facciata della Basilica di San Petronio presenta un mix di stili architettonici, tra cui il gotico e il rinascimentale. La facciata, in mattoni rossi, è incompiuta e presenta una serie di lesene, archi e finestre di diverse dimensioni. L'interno della chiesa è a croce lattina, con una navata centrale e due navate laterali. La navata centrale è coperta da una grande volta a crociera e presenta numerose cappelle laterali. La chiesa ospita molte opere d'arte di grande valore, tra cui dipinti, sculture e affreschi. Tra le opere d'arte più importanti della Basilica di San Petronio ci sono l'organo, uno dei più grandi organi a canne del mondo, composto da più di 6.700 canne, costruito tra il XIV e il XVIII secolo. La cappella Bolognini, una cappella del XV secolo, decorata con affreschi di Giovanni da Modena, raffiguranti il giudizio universale. La cappella del Santissimo Sacramento, una cappella del XVIII secolo, decorata con stucchi e affreschi di Giuseppe Antonio Torri. La cappella di San Petronio, la cappella principale della chiesa, che ospita il Mausoleo del Santo Patrono di Bologna. La cappella è decorata con affreschi di Giovanni da Modena, raffiguranti storie della vita di San Petronio. La Basilica è un luogo di grande importanza storica e artistica, che custodisce tesori di inestimabile valore. La visita alla chiesa è un'esperienza unica e affascinante per chiunque sia interessato alla storia dell'arte e della cultura italiana. Museo Civico Archeologico Il Museo Civico Archeologico di Bologna è un museo che conserva importanti reperti archeologici dell'antica città romana di Bologna e della regione dell'Emilia-Romagna. Il museo è situato nel centro storico di Bologna, in un edificio cinquecentesco, che fu una volta sede del monastero di Santa Maria della Vita. Il Museo Civico Archeologico è stato fondato nel 1881 e ospita una vasta collezione di reperti archeologici, che vanno dall'età del bronzo all'epoca romana. La collezione del museo è suddivisa in diverse sezioni, tra cui la sezione preistorica, che ospita reperti dell'età del bronzo, dell'età del ferro e della cultura villanoviana. La sezione etrusca, che presenta reperti provenienti dalle antiche città etrusche dalla regione dell'Emilia-Romagna, tra cui Marzabotto e Spina. La sezione romana, che è la sezione più grande del museo, e presenta reperti archeologici dell'antica città romana, tra cui mosaici, sculture, iscrizioni e monette. Tra le opere d'arte più importanti della sezione romana ci sono il Mosaico della Zodiacale, un grande mosaico che raffidura lo zodiaco datato al III secolo d.C., la stela funeraria di Publio Claudio Turrinus, una stela funeraria in marmo datata al II secolo d.C., che rappresenta un soldato romano a cavallo, la testa di Medusa, una scultura in pietra del I secolo d.C., raffigurante Medusa con le serpi sui capelli, la collezione di monete, una vasta collezione di monete romane, tra cui alcune rarità e pezzi unici. Il Museo Civico Archeologico di Bologna è un luogo di grande importanza storica e culturale, che permette ai visitatori di scoprire la storia della regione dell'Emilia Romagna e dell'antica città romana di Bologna. Quadrilatero Il Quadrilatero di Bologna è un quartiere storico situato nel centro della città, famoso per i suoi negozi, i ristoranti e i mercati. Il Quadrilatero è delimottato da quattro strade principali, via Rizzoli, via Castiglione, via Farini e via dell'Indipendenza. Il quartiere è caratterizzato da una serie di stradine strette e tortuose, che si intersecano tra loro creando un labirinto di viuzze e piazzette. Il Quadrilatero di Bologna è uno dei luoghi più vivaci e animati della città, con una grande varietà di negozi, botteghe artigiane e mercati. Qui è possibile trovare prodotti freschi e di alta qualità, come frutta e verdura, formaggi, salume, carne, pesce e pane appena sfornato. Il quartiere è anche famoso per i suoi ristoranti e le sue trattorie, dove è possibile gustare la cucina tradizionale bolognese, con piatti come la pasta fresca alla bolognese, la mortadella, i tortellini in brodo e il ragù alla bolognese. Tra le attrazioni del Quadrilatero di Bologna ci sono la Piazza Maggiore, una delle piazze più grandi e importanti di Bologna situata all'estremità di via Rizzoli, le due torri, le famose torri medievali di Bologna, simbolo della città, che si trovano proprio alle porte del Quadrilatero, il Mercato di Mezzo, un mercato coperto che offre una vasta selezione di prodotti alimentari di alta qualità, la Chiesa di Santa Maria della Vita, una chiesa barocca situata in via Clavature, famosa per la sua Cappella dei Morti, che ospita una serie di culture in terracotta che rappresentano i morti durante la peste del XVI secolo. Il Quadrilatero di Bologna è un luogo di grande fascina e tradizione che permette ai visitatori di scoprire la cultura e la gastronomia della città. La visita al Quadrilatero è un'esperienza unica e affascinante per chiunque sia interessato alla vita quotidiana e alla storia della città di Bologna.